Gioia e commozione in Armenia per l'arrivo di Papa Francesco che tra il 24 e il 26 giugno compie il suo 14esimo viaggio apostolico. Il motto dell'appuntamento, visita il primo paese cristiano, mette a fuoco la lunga tradizione di fede della nazione caucasica che abbracciò il Vangelo nel 301 dopo la conversione del re guarito per intercessione di San Gregorio l'Illuminatore. E tutti i cristiani, non solo la piccola comunità cattolica, sono desiderosi di ascoltare il Papa della gente, certi che le sue parole saranno auspicio di pace e riconciliazione. E' un grande onore di accettare la sua santità in Armenia. Anche tutta la gente, cattolico non cattolico, sono molto lieto di dire che il Papa viene in questo piccolo paese e lui che per noi è molto grande, molto molto grande. Allora, specialmente quest'anno il Papa viene a Gumri, una città che soffre molto e non è ancora completamente ricoverata del terremoto di 1988. E come lui è il Papa dei poveri, degli abbandonati, degli orfani, ha un senso molto importante di venire a Gumri, in questa città, e anche di venire da noi un piccolo orfanotrofrio per salutare questi ragazzi orfani abbandonati e anche persone anziane che sono completamente solitari. Noi qui riceviamo solamente gli anziani che non hanno nessuno. La visita di sua santità è una gioia immensa che ciascuno di noi vive e stiamo aspettando di vederlo, non so, di salutarlo. Anche i nostri orfani stanno aspettando e chiedono ogni giorno quanti giorni sono rimasti quando verrà Papa. Possiamo vederlo da vicino? Non so, anche la gente, non cattolici, stanno aspettando. Nel cosiddetto paese delle pietre urlanti per il tanto dolore di cui sono state testimoni nel corso dei secoli, la Chiesa Apostolica e quella cattolica sostengono e promuovono una rinascita spirituale fatta soprattutto di aiuto concreto a quanti sono in difficoltà. Vari gli avamposti di solidarietà declinati secondo i differenti carismi, dall'orfanotrofio e centro per gli anziani gestito dalle suore dell'Immacolata Concezione fino all'ospedale Redemptoris Mater che gestisce ogni anno 3.000 ricoveri e assistenza per circa 100.000 pazienti. Vengo come pellegrino in questo anno giubilare, ha detto il Pontefice nel video messaggio per la visita, per attingere alla sapienza antica del vostro popolo e abbeverarmi alle sorgenti della vostra fede, rocciosa come le vostre famose croci scolpite nella pietra. Vengo verso le mistiche alture dell'Armenia come vostro fratello, animato dal desiderio di vedere i vostri volti, di pregare insieme a voi e di condividere il dono dell'amicizia. La vostra storia e le vicende del vostro amato popolo suscitano in me ammirazione e dolore. Ai ricordi dolorosi non permettiamo di impadronirsi del nostro cuore. Anche di fronte ai ripetuti assalti del male non arrendiamoci. La visita del Papa in Armenia è importante non solo per la Chiesa armena, ma per tutto il mondo cristiano. I buoni rapporti tra i fratelli nella fede possono essere uno stimolo per la pace tra i popoli. Soprattutto oggi i cristiani sono chiamati a portare riconciliazione e gioia nel mondo, recare un messaggio che sia di ispirazione per tutti a guarire dalle ferite del passato e a guardare al futuro. Penso che la cosa più importante sia intanto creare solidarietà fra le due Chiese, la Chiesa apostolica e la Chiesa cattolica, hanno molto in comune, anzi direi quasi tutto in comune, non risulta alcuna differenza teologica, quindi sicuramente è una visita molto attesa e sicuramente i frutti saranno molto importanti. Grazie a tutti.